Sendo qui a Firenze, tra un anno c'è la visita del Papa, come direttore del centro televisivo facciamo una domanda più tecnica. Cosa preparerà il centro televisivo? Quale sarà l'ascesa in campo su Firenze del centro televisivo, anche se il programma della visita ancora ufficiale non c'è, però voi generalmente se le visite del Papa avete uno standard? Ma sì, certamente, credo che faremo quello che facciamo quando il Papa va in visita a una diocese italiana, cioè garantire un accordo con un broadcast, che può essere in questo caso immagino la RAI, e garantire le tv internazionali attraverso le immagini che il centro televisivo può raccontare, perché sono le immagini molto vicine al Papa, nei momenti più privati, nei momenti a volte che il Papa stesso desidera essere privati, come per esempio ha fatto in altre diocese, l'incontro con i sacerdoti, l'incontro liberi e spontanei. Quindi queste sono le immagini che poi verranno date attraverso il circuito internazionale a tutte le tue del mondo. Grazie.